le polizze assicurative contro i rischi naturali alluvione emilia romagna musumeci verso polizza casa obbligatoria il ministro per la protezione civile nello musumeci ha sottolineato che la cosa migliore contro rischi naturali e che ciascuno sottoscriva un'assicurazione obbligatoria sulla casa per i danni da maltempo e gli eventi sismici poche ore dopo il ministro circolando sull'autostrada bologna padova all'altezza del cavalcavia di occhio bello ha pure consigliato l'assicurazione vita per chiunque deva transitare nella zona conclude musumeci sentenziando ormai lo stato non ha più il denaro necessario per sempre e per tutti il che in cristiano vuol dire ormai i quattrini ci sono solo per noi altri filippo turetta nuovo video dell'interrogatorio negli spezzoni del video si vedrebbe il magistrato di fronte a una sedia vuota sul tavolo una nota con la scritta torno subito scienziati e esperti dell'oms stanno ancora studiando la nuova variante del vaiolo delle scimmie ma si teme già che possa essere mutato molto di più di quanto si potesse supporre per un virus di questo tipo infatti i sintomi non sarebbero più associati alla apparizione di linfonodi ingrossati ma piuttosto a una rapida somiglianza con il primateontore il regalo di natale del governo meloni è pronto ecco il bonus tredicesima 100 euro a dicembre tuttavia ci sono alcuni paletti lo stipendio massimo è 28 mila euro è riservato a chi ha un coniuge e almeno un figlio e servono sia la richiesta al datore di lavoro che parlare correttamente la lingua di una delle repubbliche baltiche Kamala Harris ospite di Oprah Winfrey ho un'arma in casa se qualcuno fa irruzione gli sparo nel suo intervento una Kamala in evidente stato di diversa sobrietà ha ricordato ai telespettatori di possedere una pistola per motivi personali cosa che ha sorpreso Winfrey probabilmente non avrei dovuto dirlo ha detto Kamala che con grande risate ha precisato che saranno i membri del suo staff e i mainstream media a sistemare le cose e chiarire che qui l'unico violento è Donald Trump povera Ilaria Salis ogni qualvolta interviene su un tema deve sopportare un profluvio di insulti semplicemente perché ha osato aggredire due ungheresi causandoli lesioni gravi adesso viene criticata per il fatto di affermare che il carcere è razzista poiché il 75 per cento dei detenuti è straniero eppure secondo il Huffington Post la Salis ha ragione quindi servirebbero più italiani dietro le sbarre appello al cui aderiamo a condizione che i primi a stare al fresco siano la Salis e la sua banda cari ascoltatori grazie della vostra attenzione vi aspettiamo nella prossima edizione di mainstream tv grazie a tutti grazie a tutti